Ciao e benvenuto in questo nuovo video Oggi è la seconda puntata delle sfide impossibili con Francio Ebbene sì, farò il plank Non poco eh, farò tanto, cioè, ta, ta, troppo Questa sfida parte oggi, eh, 14 marzo Che durerà un mese Da oggi io dovrò testare la mia forza col plank Vedendo in un mese riesco ad arrivare all'obiettivo che mi sono predisposto oggi E allora io il plank l'avrò fatto, se no, due volte nella mia vita Quindi oggi sarò qui per testarlo E vedere quanto, quanti minuti rimango senza morire E alla fine del mese devo riuscire ad arrivare almeno Come è una sfida impossibile Ad almeno 5 ore Facciamo che... ok Dobbiamo arrivare alla fine del mese A 10 minuti di plank Andiamo a fare la merenda ragazzi Mi vuole un bel caffè, un bel caffè rigenerante E poi magari anche una fettina di torta può fare comodo ovviamente Come si chiama il caffè rigenerante Madonna sto cara di merda Che ragazzi c'è fatto buio? 3 minuti e mezzo siccome ho iniziato un po' dopo Però la sfida impossibile è proprio questa Bisogna provare ad arrivarci Ed è quello Che io riuscirò a fare cazzo Sai perché riuscirò a farlo? Perché questa è sfida impossibile Con Francia E' esattamente come ieri Wow Ciao Ciao 3 minuti e 50 56 55 Beh dai abbiamo fatto un po' meglio di ieri Sì stiamo sulla giusta strada no? No basta 4 minuti e 28 Domani si deve a 5 Oggi ti ho messo le cuffie Ragazzi ce l'abbiamo fatta 5 minuti e 37 Un minuto in più di ieri Un minuto in più di ieri Quattro minuti e mezzo Quattro minuti e mezzo Un minuto e mezzo Cioè un minuto e basta Di meno rispetto a ieri Quindi abbiamo fatto un minuto in meno Ma sapevo che oggi c'è avuto di meno Perché mi fanno male le spalle da ieri Quindi preserviamo un po' di forza Grazie a per domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Benvenuti nell'ultimo giorno della sfida Ragazzi oggi è il 28esimo giorno della sfida Oggi infatti è l'11 marzo Mi fa male tutto Mi fa male tutto Perché oggi non solo arriverò di nuovo a 10 minuti Ma daremo il massimo Faremo anche di più Almeno ci proviamo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti